Un appuntamento importante che vede a Napoli la partecipazione di tutti coloro che rappresentano la categoria dei commercialisti a vario titolo nei vari paesi. In modo particolare è presente tutto il Sud America e credo che sia un evento importante perché il tema centrale è sicuramente l'internazionalizzazione che ci consente uno scambio di opinioni, di affari, di scambi commerciali tra i vari paesi. Credo che l'Italia ma soprattutto Napoli che ha dimostrato sempre grande vivacità per questi temi ancora una volta si conferma leader nel rappresentare una categoria dei commercialisti che opera sul territorio per l'economia, per le piccole e medie imprese ma soprattutto per l'economia del paese che ha bisogno in questo momento di una produzione di pil e sappiamo quando sia importante.